Però dovreste anche sapere che ultimamente mi è capitato una cosa veramente veramente strana Sarà stata forse la cena troppo pesante ma sta di fatto che ho fatto un sogno veramente veramente assurdo In questo sogno regà volevo essere Logan Paul Ma si dai lo conoscete tutti quanti Logan Paul il binary americano quello muscoloso, biondo, alto che sta sempre con le figlie Si dai lo conosce, non lo conosci Ma regà sta di fatto che in questo sogno Logan Paul era il mio idolo e io volevo essere proprio come lui Per farmi capire regà mi addormentavo con il santino di Logan vicino al letto Restavo sveglio fino a notte fonda per guardare i suoi video Guardavo i suoi Instagram stories e sognavo di essere un giorno muscoloso e forte come lui E poi vabbè sognavo anche di essere divertente, carismatico e biondo come lui No aspettate un attimo forse biondo no però divertente e carismatico come lui sicuramente Finché preso dal tormento di essere come lui e di seguire la sua strada Ho deciso di strappare il mio legame con YouTube e di provare a essere Logan Paul Pantaloncino corto, maglia blu abbastanza attillata da far vedere il petto e pure lo sterro Calzino alto, bandana americana e siamo pronti per diventare il Biner più famoso di tutto il mondo Vabbè se non di tutto il mondo almeno d'Italia Vabbè se non d'Italia almeno concedetemi la Lombardia Ok magari riguarderanno soltanto quelli del mio paesino ma in ogni caso quando hai un sogno devi seguirlo E io volevo essere Logan E io volevo essere Logan E io volevo essere Logan Purtroppo non tutti i sogni si avverano neanche nei sogni a quanto pare E ho fallito miseramente Sì ho fallito Così era maricato e me ne sono tornato a casa a guardare i video di Stephanie Ma meno Clash Royale sono buono ragazzi almeno quello E poi mi sono svegliato Dovinate? Mi sono tormentato guardando un video di Logan Paul Inizialmente pensavo di essere ancora nel sogno Poi mi sono reso conto che in realtà era soltanto un brutto sogno In ogni caso Oggi Antonio è venuta a Milano E allora Ryan passa Esatto Sono appena arrivato E mi hanno fatto questi La vita E vi dirò questo qua Questo era buonissimo Mi ricordo quando abbiamo agito la prima volta Poi ho sentito l'esplosione E' un zucchero Nooo Poi sono altri Adi veramente Beh raga allora sono 50 motivi per amarmi Quindi rendiamoci conto Ami la pizza Ami la pizza E' che cazzo il più E' a fuoco Questo è un valido motivo per amarmi No ci sono anche serie No poi mi dicono Mi dicono tutti Stiamo facendo una passeggiata In Darsena E stiamo facendo una passeggiata E' una bellissima giornata C'è un sacco di sole E' io il maione Che gioia Scusami Se non passo Assolutamente no già Stiamo facendo delle foto Un momento foto Dai un abbraccio Un abbraccio live Un abbraccio live Due due Allora ragazzi Ben in posa Mi raccomando PH mi raccomando Attenzione Oddio Da quant'è che non scatta delle foto Altra che youtuber Doveva fare il fotografo Oddio Segreti svelati La vita sentimentale di tutti E' Greta la Ogni volta che faccio i video in casa mia Parte sempre Il motorino O l'ambulanza O il motorino O il taglio No tagliarbo Wow che bello Stiamo andando a scuola mia dove ci abbiamo parcheggiato la macchina per spostare la macchina perché sono finite le ore del parcheggio e quindi ci stanno accompagnando e non riesco a inquadrare E' contenta che vi ti porto da Simon Luca Si molto Io l'ho mai visto Anche da Pipe esatto Si La macchina di Brian a mano Lo stiamo toccata Ho dovuto lasciare un po' il peso Una passata perché Sennò non arrivassi Vediamo che è a Brian in macchina Esatto Ma si vede No Si vede il mio riflesso in realtà Stiamo andando che Simon Luca ci aspetta La Pipe La Pipe La Pipe E il Kugy 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 E vabbè Mamma ti stai posteggiando a Brian Andiamo in palestra Si mamma Ema è gelosa Ma la foca monaca Si tuffa da Dio Basta Basta Siamo arrivati da Simon Luca C'è di contento Si C'è Pipe Sperai su Sperai su Si gira oggi belli Mia che figata è Quindi state ancora aspettando Pipe Si Pipe è ancora lì in riunione Quanto pane Non ci arrivi Abbiamo deciso allora che te lo giriamo noi il video Sam Sì Siete d'accordo? Appena D'accordo Ecco come l'ho detto Dai ci dati la canzone Dai Il magico mondo di Pipe Ciao Allora E' arrivato Felipe Ciao Stiamo facendo il vlog di Brian Allora Greta se n'è andata E noi ci siamo infiltrati nel Nel posto dove Simon sta registrando Come va vi state divertendo? Siete felici? Sì Bravo Sono molto 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 contento Poi non ci vediamo Nel momento Da entrambe le parti Io però mi schiero dalla parte di noi massi Che ogni volta sentiamo la pressione di non riuscire a fare colpo al primo appuntamento Partiamo dall'abbigliamento Che può essere importante anche per noi Però a volte mi viene da pensare che Magari se mi faccio vedere vestito subito bene Magari con una camicia Allora sicuramente le volte successive Non mi potrò presentare in tuta Oppure vestito casual Dovrò sicuramente cercare di dare un'impressione migliore no? Quindi chi dice che indossare una maglietta Magari con una stampa simpatica O semplicemente interessante Non sia meglio Eh già siamo paranoici anche noi Se dobbiamo parlare dell'acconciatura poi È un altro discorso complicato Io vi dico soltanto che ho passato anni e anni A sistemarmi i capelli davanti allo specchio Prima di uscire con phon Lacca Cera Che neanche un parrucchiere Ma ora so benissimo che dei capelli semplicemente pettinati E una barba ben curata Sono molto meglio di qualsiasi altra acconciatura Magari improvvisata anche male Poi però Arriva finalmente Il tanto temuto primo appuntamento Allora tu sei lì bello pronto Ti senti a tuo agio Sei carico Ma non sai ancora di cosa parlare Cosa fai però? Vai nel panico Oppure pensi di essere più sciolto possibile E di parlare di ciò che ti passa per la testa Eh Scegli un posto Al resto ci penserai dopo Se scegliere il posto giusto per il primo appuntamento Risulta qualcosa di complicato Ricordatevi che una passeggiata È il modo migliore per raccontarsi la quotidianità Ed essere il più naturali possibili Sì te stesso Ma quindi che cosa hai all'occhio? Ciao a tutti E benvenuti in questo nuovo video Devo dire che nell'ultimo periodo Mi sono accorto di una cosa Alle persone che mi conoscono Non mi interessa se Esco a fare un giro Ti sto mangiando una piadina buonissima Siamo un cane Tenero e coccoloso No L'unica cosa che gli interessa sapere È che cosa ho combinato all'occhio Le domande che mi sono arrivate recentemente Sono state tipo Hai la congentivite? No Hai preso un colpo d'aria? No Hai un'infezione? No Ti hanno menato? No Hai fatta botte? No Non proprio Però diciamo che ho evitato Che succedesse una cosa simile Adesso vi spiego meglio Quasi fine serata in un locale di Milano Ero parecchio stanco E stava per avvicinarsi l'ora di tornare a casa Quando a un certo punto mi giro Vedo un drink volare in aria Ed è tizia caso avventarsi contro un mio amico In quel momento io non ci ho proprio visto E la prima cosa che mi è venuta in mente di fare È stata quella di lanciarmi in mezzo Per dividere tutti quanti E per evitare appunto che se la prendessero con il mio amico Così nello spingere via queste persone Involontariamente mi sono preso uno dei pugni Che sarebbero arrivati probabilmente in faccia al mio amico La mia reazione subito dopo aver subito questo colpo È stato un attimo di disorientamento Più che altro perché non me l'aspettavo appunto Il mio unico obiettivo era quello di fermare il tutto Prima che succedessero altri casini A parte il dolore della botta presa Non sentivo assolutamente nulla Tanto che poi sono tornato a casa Sono andato a dormire E il giorno dopo mi sono svegliato con l'occhio Completamente viola Ma si può sapere cosa convini? Tu! Aspetta ma tu come sei arrivato qui? Guarda sono il Brian del passato Sono arrivato con la delorean L'ho parcheggiata qua sotto Secondo te Innanzitutto vedi di metterti una maglietta Perché con quei peli mi fai ribrezzo Ah ah Almeno io non sono uno sbarbato di merda come te Cosa vuoi? Sì sì ok Comunque Io sono la tua coscienza Brian Sono il te che c'era prima E che adesso non c'è più perché preferisce stare sul divano come un nulla facente Guarda al momento credo sia la cosa migliore che io possa fare Visto che fuori ci sono 40 gradi all'ombra E tutti quanti sono partiti per posti fighissimi Tranne chi? Ok questo posso capirlo Ma allora perché non impiegare il tuo tempo libero come facevi una volta Tipo girando un video Cioè guarda cosa facevi prima Infatti guarda che idiota Ma sei tu? No caro Ero io Adesso sono cresciuto Tì ma lo so che dentro di te sei ancora un ragazzino Certo ho solo 21 anni Non sono ancora arrivato alla mezza età per fortuna Ok però guardati Sei seduto sul divano con il cellulare A scrollare la home di Instagram a caso Senza uno scopo specifico E continui a guardare programmi televisivi americani In cui si sfondano di cibo fino a stare male Beh quindi Arriva il dunque grazie Brian devi ritrovare lo spirito che ti ha sempre spinto a fare contenuti interessanti Divertenti e che potessero anche aiutare le persone Cioè non ti ricordi di questo articolo? Tu regalavi sorrisi E adesso guardati Senti non è il caso di prendermi pure per il culo Qual è il punto? Il punto è che devi tornare su YouTube con la stessa forza di prima Ma hai visto cosa è diventato YouTube adesso? La gente ormai pensa soltanto a sparlare degli altri A reagire ai video altrui A fare scherzi idioti Insomma non c'è più originalità Non ci sono più contenuti di qualità su YouTube O almeno per quanto mi riguarda Non che i tuoi video fossero meglio però insomma Ma lo vedi? Sei diventato così cinico? No credimi Sono solo realista Ok ma non credi di poter fare di meglio? Beh certo che posso fare di meglio Però poi quando vedo cinque views Due commenti Tre like Insomma Mi passa un po' la voglia Ma a te di quello non è mai importato nulla In realtà non mi interessa nemmeno tuttora Però Credimi Dovresti sapere come funziona il mondo Il lavoro Insomma Un giorno capirai Aspetta Ma aspetta Io lo so già come funziona il mondo adesso Sto parlando con il me del passato Che non esiste più in realtà Ok Forse è arrivato il momento di tornare a fare sul serio una volta per tutte Sì perché io sarò un vero influencer Sì perché io sarò un po' la voglia